Soprattutto sono onorato che le istituzioni sono venute qui da noi a trovarci, come la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia Penitenziaria e la Polizia di Stato. Questo non può che renderci onore, non può che renderci contenti e non può che farci felice sapendo che ancora oggi lo Stato vige, cresce e si basa sulle forze dell'ordine. Questo non può che essere per noi un vanto, un orgoglio, tant'è vero che abbiamo avuto a farle un omaggio l'onorevole Pezzo Pane, l'onorevole Marco Croatti e il Ministro Trenta. Quindi l'attenzione che io ho avuto fin dall'inizio nei confronti del personale per me sembra una cosa normale, credo che sia giusto perché la difesa non esiste senza il personale della difesa. E' il sindaco del terremoto possiamo dire? Se purtroppo speravo di non esserlo mai, da queste esperienze però ho cercato di andare oltre, guardare oltre e guardare oltre appunto la prevenzione, non perdere la memoria a parlare di prevenzione penso che sia importante. Ad ogni tragedia c'è un'immissione straordinaria di risorse statali, io penso che sia più intelligente invece metterle sulla prevenzione. Il Lazio è la prima regione che ha una legge sulla prevenzione sismica, mette delle risorse a disposizione dei cittadini, non solo quelli col piede del terremoto, ma per prevenire quelle zone dove c'è il grande rischio di terremoti. Io mi auguro che questa legge diventi un modello anche per le altre regioni e sia un momento di riflessione. Una politica di impegno, una politica d'eccellenza, tutta rivolta al femminile, almeno nella capitale. Beh, sì, io lo ritengo un dovere, quindi mi impegno nel sociale per quanto riguarda appunto la violenza di genere, ma soprattutto sono anche molto sensibile alle tematiche ambientali, perché noi viviamo in una città molto, diciamo, caotica dove c'è un grosso problema di inquinamento, di polveri sottili, quindi io sono sensibile a tutte quelle start-up che in un certo senso ci possono dare una mano. Ma il problema è che spesso non veniamo ascoltati da chi amministra questa città. Il medico deve aggiungere al proprio bagaglio tecnico quello che è il rapporto umano con il paziente. Quante volte si sentono a dire, ma non ci hanno detto niente, non sappiamo nulla. Quindi questa empatia che si crea associata alla umanità, il bagaglio tecnico, si raggiunge all'eccellenza, perché i medici italiani sono dei medici molto considerati a livello mondiale. Eccellenza è una parola grossa, credo che l'eccellenza sia la quotidiana capacità di fare il proprio mestiere a tutti i livelli, tutti i giorni. Tutto su un focus ben preciso, il momento istituzionale, se vogliamo, anche rispetto alle scorse edizioni, in maniera più preponderante. Assolutamente, è più preponderante perché comunque questo premio prima era una difficoltà a segnarlo perché magari le persone non ci conoscevano. Oggi sono le eccellenze che ci contattano e che ci vengono a cercare per essere premiati. Per noi questo è un vanto, siamo diventati da una piccola associazione, una forza extra parlamentare, una forza extra politica in grado e capace di influenzare le decisioni di un governo, le decisioni della regione e di un comune.